Il nostro sistema sangue è sicuro e le donazioni non devono fermarsi. Coloro che sono in buono stato di salute continuino a donare nel rispetto di quanto disposto dalle istituzioni competenti. La paura del contagio non ci deve condizionare. Il CIVIS in costante coordinamento con il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie fa il punto dopo giorni estremamente delicati a seguito della diffusione del coronavirus. Le strutture associative che si occupano della promozione e della raccolta del sangue in Calabria e la struttura regionale di coordinamento della Calabria in un clima di stretta collaborazione come avviene anche in ambito nazionale tra il CIVIS e il CNS, stanno continuamente monitorando la situazione. La premessa che dobbiamo fare è quella che il sistema sangue nostro, il sistema associativo, è sicuro. Per cui la donazione del sangue è sicura, rimane per quanto ci riguarda l'impegno morale a continuare le donazioni, a non sospenderle ma garantire maggiore sicurezza nel momento dell'accesso del donatore ai nostri punti prelievo e naturalmente perché la sicurezza del donatore si ripercuote poi nella sicurezza del ricevente. Noi applichiamo le norme che vengono emanate dall'Istituto Superiore della Sanità attraverso il Centro Nazionale Sangue, il cui referente in Calabria è il Centro Regionale Sangue, a cascata, arriva da noi e di conseguenza a tutte le nostre strutture, responsabilizzando i responsabili medici delle unità di raccolta associativa, che sono quelli che seguono sul territorio le donazioni e nel momento in cui si effettua la chiamata del donatore si fanno delle domande precise per evitare che si presentino ai nostri punti delle persone che sono a rischio contaminazione. Facciamo un po' il punto della situazione, sono ore particolarmente concitate, c'è preoccupazione, c'è allarmi ma non deve esserci psicosi. Sì, intanto io volevo dire che, riprendendo le parole del Presidente regionale dell'Avis, c'è una perfetta sinergia e collaborazione tra il Centro Regionale Sangue e le associazioni dei donatori, come c'è sempre stata in tutti questi anni. Noi collaboriamo quotidianamente scambiandoci appunto quelle che sono le informazioni che ci vengono dal Centro Nazionale Sangue e quindi confrontandoci e trovando anche le soluzioni strategiche per mantenere l'autosufficienza regionale nella nostra regione. Questo è importante, l'appello che io posso dare appunto ai donatori, intanto come cittadini, è quello di osservare scrupolosamente le ordinanze nazionali e regionali, attenersi quindi in maniera rigorosa e scrupolosa a quelle che sono le misure di prevenzione, questo per tutelare la salute proprio dei nostri donatori, quindi mantenersi scrupolosamente a quelle che sono le misure di prevenzione della diffusione di questo virus. Grazie.